Dopo quella del grano, la raccolta del girasole è giunta al termine nella maggior parte delle zone della nostra provincia. A rallentare forse gli ultimi raccolti, la pioggia delle scorse settimane che ha posticipato solo di qualche giorno la trebbiatura delle piante. Pioggia che però non ha risolto il tema della siccità, che ogni anno mette a dura prova i campi e le culture in tutta Italia. Le alte temperature però hanno permesso alla cooperativa agricola di Falcineto di iniziare con anticipo la raccolta del seme. Come gli anni passati ormai è una consuetudine il problema della siccità, qui da noi si fa parecchio sentire. Le culture che andranno a passare l'estate in particolar modo si ripercuote una bassa resa, in particolare anche il girasole che tra tutte le culture diciamo che vanno a attraversare l'estate è quella che in qualche modo si è abbastanza salvata diciamo, al contrario di mais, foraggi e sorgo il girasole più o meno mantiene un andamento qui in pianura, la resa è dai 12 ai 18, 15 quintali per ettaro, mentre in collina terreni più tenaci, più forti e la resa è dai 20 ai 25, 26 quintali per ettaro, è sempre poco comunque ma comunque diciamo che è l'unica che mantiene una certa media. Tipicità di questa pianta il girare continuamente verso il sole, infatti una volta arrivato a maturità il fiore smette di girare rimanendo rivolto verso est. Il girasole può essere utilizzato sia per l'alimentazione umana che per quella animale fino alla produzione di biocarburante. Ritornando sui campi la difficoltà di quest'annata è stata la presenza dei piccioni. Siamo dovuti andare a riseminare qualche appezzamento, non solo noi, anche qui gli altri coltivatori, si imbrancano dei grossi stormi di piccioni e puliscono praticamente un campo, quindi sei costretto poi a riandarlo a seminare. Il perdurare della siccità dovrà mettere gli agricoltori della nostra provincia a studiare nuove culture e nuove strategie di semina. Se l'andamento climatico è questo, bisognerà cominciare con culture che non andranno ad attraversare l'estate oppure creare degli invasi di acqua, ma la cosa è un po' più complicata perché innanzitutto se non piove non si riempiranno neanche gli invasi. Comunque la storia è questa, sarà ad approfondire la cultura del colza, del pisello, pisello proteico, pisello fresco, cose che non andranno a intralciare l'estate.